D'accordo, sono sul fondo. Ok, secondo il segnale sei alle giuste coordinate. Tracce del bottino? No. Non ancora almeno. Rilevi qualcosa da lassù? Temo di no. D'accordo, seguirò la corrente. Ricevuto, tienimi aggiornato. D'accordo. Ehi, dovrebbe restarti solo un quarto di riserva, vuoi risalire? No, ce la farò. Può essere lontano. Se non lo trovi subito devi risalire. Lo troverò. D'accordo. Sì. Se non lo trovi. Sì. 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 Qui c'è qualcosa Cos'è? Niente ruggine, il colore è quello Forse ha colpito le rocce ed è rotolato Ehi, cosa borbotti? Scusa, sembra un pezzo del relitto Non può essere tanto lontano Musica per le mie orecchie, Drake, continua Eccolo, l'ho trovato Bene, com'è messo? È malconcio ma integro Ok, ecco qui Fatto Buongiorno ragazzi Ok, sono dentro Bene, la maggior parte è ancora qui Vediamo, una, due, tre Ok, secondo i miei calcoli mancano due casse Vado a recuperarle Aspetta, che dici di risalire e prendere una bombola carica? No, la cassa deve essere nei paraggi, tranquillo Ne ho trovata una Merda Bene, una cassa è a posto Tempismo perfetto Siamo sopra di te e la gru sta scendendo Stiamo scendendo Ok, è in posizione Allora, aggancia il rimorchio Vediamo di sollevarlo un po' Ok, io ho il calo Provado ad avvolgerlo attorno a uno degli assi Dovrebbe andare Sì Allora, aggancia il rimorchio Uno è andato Bene, occhio all'ossigeno adesso Va bene Nate, che combini? Allora, aggancia il rimorchio 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, è in posizione. Aggancia il rimorchio. Vediamo di sollevarlo un po'. Ok, ho il cavo. Prova ad avvolgerlo attorno a uno degli assi. Dovrebbe andare. Sì. Uno è andato. Bene, occhio all'ossigeno adesso. Va bene. Il secondo è andato. Ok, il rimorchio è pronto. Perfetto. Allontanati, lo solleviamo. Quando volete. E adesso ci siamo. Ok, è sufficiente? Sì, è a posto. Fatemelo cadere addosso. Non posso promettertelo. Ok, ho l'altra cassa. La fisso insieme alle altre. Dai, forza. Così. Oh, mamma. Il carico è al completo ora. E con cinque minuti di ossigeno avanzati. Piamine. Ehi, che ne dici di restare ancora un po'? Potresti trovare altri tesori qui. No, può bastare così. Un passaggio? Sarebbe gradito. Dimmi quando sei sulla gru. Ok, ci sono. Tiratemi fuori. Ricevuto. Risaliamo. Guarda che splendore. Come ti senti? Meglio, ora che sono uscito dal fiume. Inizierò di pesce per una settimana. Ok. Stiamo arrivando. Resisti? Sono pronto. Me la, ragazzi! Bentornato, Drake! Sì, è bello tornare. Lancia l'attrezzatura. Arriva. Grazie. La bambola è leggera come una piume. Cerco di agevolarti il lavoro. Drake, è stata un'immersione interminabile. Ma sai, ho visto di peggio. È un complimento? Beh, sono scioccato. No, ma sai cos'è scioccato? Il tuo odore. Non saprei. A me non dispiace. Mi ricorda tua madre. Questa è cattiva. Ti riferirò anche questo. Amico mio. Come va? Secondo te? Stai bene? In perfetta forma. Ti stai mettendo tutti in cattiva luce. Mi sto mettendo in buona luce. Il governo è indietro di dieci anni rispetto al resto del mondo, eh? Qui finiremo dopo. Allora, quando pensate nel bene? Il mio eroe... Andiamo. Vediamo chi hai preso. Vedete di darvi una mossa. Ehi, la prossima volta lascia andare avanti qualcun altro. Meriti una pausa? No, no, grazie. Riesco a stare a mo'. Beh, ad ogni modo, c'è tempo prima della prossima immersione. E dici, il lavoro di giovedì? Ma crediamo, no? C'è chi lo fa per meno. Non ci credo. La concorrenza è agguerrita. E intanto guardiamo qui. A te l'onore. Muoviamola! Sì, certo. Grazie. Wow! Guarda un po'. Abbiamo del rame. Non hai idea di quanto valga questa roba. Il cliente ce lo pagherà a peso d'oro. Non vuoi fonderlo e farne dei centesimi? Dai, andiamo a festeggiare. Offro il primo giro. Venire a bere con voi? No, no, no. Non ho più il fisico. Se non ti spiace, sbrigo le scartoffie e poi crollo sul divano. Un'altra volta? Ok, come vuoi. Ehi. Bel lavoro oggi. Grazie. Rame. Ehi, ehi, Nate. Nate, aspetta. Ehi, che ci fai qui? Ah, ho un regalo per te. Un regalo? Che cos'è? Ho avuto una soffiata su quel rilitto sommerso in Malesia. Oh, no. Ah, la nave è intatta. Sì. Basta solo prendere il carico. Sei un tipo tenace, devo ammettere. E? Ci hanno anche dato i soldi per l'equipaggiamento. È tutto pronto. Tranne il mio uomo migliore. L'unico a cui affiderei questo incarico è diventato un coniglio. Primo, i conigli sono creature adorabili. Secondo, il contatto ha i permessi? No, non hai i permessi. Senti, nessuno otterrà quei permessi. Certo che no. Ma, Nate, non capisci che gioca a nostro favore. Niente permessi, niente concorrenza. La nave è nostra. Niente permessi, niente partenza. Nate, sarebbero i soldi della pensione. Abbastanza per entrambi. Non so come la vedi tu, ma non ho intenzione di recuperare Rottami fino a 60 anni. Tu sì? Meglio della galera. Ora, senti, io mi tiro indietro. E dovresti farlo anche tu. Ok, ma tienili tu. Fallo per me, dai. Guarda che non cambierò idea. Ti chiedo di dormirci su, va bene? Saluta Carla e i ragazzi da parte. Ok. Senza impegno, Nate. Ma pensaci su. Hai studiato da bravo scolaretto. Hai ristretto l'area di ricerca. Sarebbe la scoperta del secolo. Sarebbe la scoperta del secolo. Figlio di puttana. No, no, non si può. Tu finirai in mezzo agli altri. Grazie. 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 Grazie.